Dopo due sconfitte consecutive torna a vincere l'Atalanta Under 23, lo fa contro la corazzata Trestina che è imbattuta pensato un po' da 11 partite consecutive, segnano nel primo tempo Sisse e l'ex Ghislandi lo scorso anno in prestito proprio da Trestina e poi nel secondo tempo accorcia le distanze adorante ma non basta, vincono i nerazzurri e adesso i bergamaschi sono al pari con il Vicenza al quinto posto in classifica nel girone A di Serie C. La segnalare è l'ottima prestazione di Varnier in difesa che si dimostra fuori categoria e probabilmente senza quegli infortuni l'avremmo visto con la maglia dell'Atalanta a prima squadra, molto bene anche Jabba fondamentale il suo lavoro in area di rigore nell'azione del secondo gol e molto bene anche le triangolazioni tra Di Serio e Sisse che hanno portato al gol che ha aperto poi le marcature di questa partita. Adesso l'Atalanta si prepara perché nella prossima partita giocherà contro il Pado e sarà un'altra sfida molto importante per capire dove può arrivare questa squadra quest'anno.